Il Comune passa alla sottoscrizione. Sono stati siglati il giorno di San Silvestro e i contratti di assunzione a tempo indeterminato per gli agenti di Polizia Locale che hanno superato il concorso bandiro dal Comune, ma solo in 5 hanno preso servizio nei giorni scorsi, andando a implementare la pianta organica della Polizia Municipale. Per coprire tutti e sette i posti da assegnare si dovrà attendere ancora qualche giorno. Lo schema del contratto di lavoro, che ha dato il via libera alla sottoscrizione dei contratti, è stato approvato con determina dirigenziale numero 184 dello scorso 31 dicembre. Si è proceduto quindi alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato. Per lei a frittella Antonella Imperatore, Loris Coccione, Siro Baldassarre, Ettore D'Alessandro ha rinunciato all'assunzione Mircofina, che era rientrato nella graduatoria di merito, dove aver preso servizio in un altro ente, mentre l'altro candidato ammesso, Michele Paglione, deve ancora presentare il diploma di donetà al maneggio delle armi, documento di cui si richiedeva nel bando di concorso il possesso al momento dell'assunzione. Per lui la stipula del contratto è rimandata solo di qualche giorno. Al posto di Fina, subentra l'ottavo della graduatoria di merito, Sabatino Lalama, che sarà chiamato in comune per la verifica della documentazione e la sottoscrizione del contratto. Da Palazzo San Francesco si stanno quindi attivando per chiudere l'intero iter delle assunzioni, mentre la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta sul caso per accertare la regolarità delle procedure seguite, dopo la serie di esposti anonimi che sono stati presentati le scorse settimane da alcuni cittadini. Per il comune tutto si è svolto nella piena trasparenza, ma sarà la magistratura ad accertare eventuali responsabilità. Al concorso avevano fatto domanda oltre 500 candidati. Alle prove scritte su 272 aspiranti vigili urbani che avevano superato il test fisico, si erano presentati in 256. È arrivata poi la stangata agli iscritti con solo 11 candidati che sono riusciti ad accedere al test di lingua straniera e agli orali. In 5 hanno preso servizio nella vigilia di Capodanno, altri due saranno assunti nei prossimi giorni.